Sarà un doppio appuntamento nel segno della sinergia e dello spirito di collaborazione, quello in vista della settimana delle capitali al quadrato del progetto 50x50 di Pesaro 2024 che andrà dal 27 maggio al 2 giugno. Saranno infatti due i comuni in contemporanea ad essere capitali della cultura per una settimana, ovvero quello di Borgo Pace e di Sasso Corvaro. Partendo dalla Primo scopriamo un programma ricco di eventi con un'iniziativa che li vedrà legati nel segno del Salvatore dell'Arte, ovvero Pasquale Rotondi. Vi potete aspettare sicuramente una settimana per tutti i gusti perché per noi, a noi ci piace vivere la cultura a 360 gradi, quindi ci piace viverla attraverso le sessioni di danza, ci piace vivere attraverso l'occupazione poetica dei borghi, ci piace vivere attraverso dei docufilm che verranno proposti. Ci piace viverla in mezzo ai nostri boschi, quindi passeggiate, trekking alla scoperta dei nostri panorami mozzafiati ma anche delle nostre torri feudali. Ci piace viverla facendo vedere il bello architettonico che c'è da noi, quindi ci piace viverla con gli autori, quindi la nostra casa della scrittura con i suoi curatori Daniele Luigi e Antonio Gabbiani che intervisteranno e incontreranno degli autori, in modo particolare Claudio Pallottini, lo sceneggiatore del film su Rotondi e qui il collegamento con Sasso Corvaro. Il mercoledì ci incontreremo io con il sindaco Grossi a parlare con Pallottini e con Daniela Luigi, proprio di Pasquale Rotondi ma anche di Gigi Proietti. Poi ci piace viverla con la musica, perché a noi la musica ci piace tanto, quindi avremo dei momenti musicali importanti. Infine non poteva mancare sicuramente l'enogastronomia, quindi impavide patate, questa cena vegetale tra sconosciuti il giovedì sera, cosa c'è dopo che ci saranno tre edizioni all'interno del nostro calendario e tante altre cose. E naturalmente non può mancare la sinergia tra quelli che sono gli attori del nostro territorio, quindi tutti i nostri cittadini ma anche tutte le nostre associazioni, quindi le Proloco, l'Auser, Epicentro, l'associazione sportiva, quindi una settimana per gustarci tutti insieme un po' di sana cultura, quella sana cultura che molte volte si pensa a non esserci nei territori interni ma che invece c'è, è di qualità ed è solo da scoprire. Sasso Corvaro prepara invece una settimana da capitale interamente dedicata all'arte in ogni suo luogo e in ogni sua forma, decidendo di rivolgerla completamente alla figura di Pasquale Rotondi e istituendo a fianco dello storico premio anche il Pasquale Rotondi Junior, aperto e dedicato a tutte le scuole di ogni ordine e grado della Regione Marche. Abbiamo voluto dedicare la settimana della cultura di Sasso Corvaro Auditore a Pasquale Rotondi, un eroe della storia italiana, un eroe che ha salvato nella rocca di Sasso Corvaro 7.821 capolavori dell'arte italiana mettendoli al segreto e al sicuro dalle razzie della guerra, della seconda guerra mondiale. Quindi tutta la settimana della cultura sarà dedicata proprio al ruolo di Pasquale Rotondi, alla figura di Pasquale Rotondi e l'operazione salvataggio. Quindi racconteremo, grazie ai volontari della Proloco e storici del nostro territorio, il ruolo, la figura di Pasquale Rotondi. L'operazione salvataggio quindi tutta la settimana poi si concluderà con che cosa? Con la giornata istituzionale del premio, con la premiazione dei vincitori della 26esima edizione del premio, ma aspettando il premio, quindi aspettando la giornata di sabato primo giugno con le premiazioni, abbiamo realizzato questa settimana per parlare di arte. Come l'anno scorso andremo a inaugurare nuovi murales, quindi nelle facciate prestate dagli abitanti, dalle famiglie del nostro comune, che ringrazio, andiamo a realizzare altri murales dedicati a Pasquale Rotondi e l'operazione salvataggio. Questo perché è un progetto che vogliamo portare avanti e nel tempo diventeremo uno dei paesi dipinti. Lunedì, martedì, mercoledì abbiamo tre giorni di laboratori a cielo aperto, quindi nelle vie del nostro paese di Sasso Corvaro, intorno alla Rocca, verranno realizzati dei laboratori per i bambini, per i più piccoli e i più grandi, diversi tipi di laboratori, per poi continuare nel pomeriggio con degli approfondimenti storici sulla figura di Pasquale Rotondi e la sera invece avremo degli spettacoli teatrali, quindi anche il teatro, la musica, i concerti, i cori e tante altre manifestazioni.